insieme siamo incredibili andiamo andiamo adesso ti devo parlare sì certo bene 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 ascoltatemi per favore dedicherò una canzone che lei già conosce alla ragazza più 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 speciale più mi mancano le parole per descriverti a violetta e questo bagliaccio che vuole io ci ha appena visti cantare e ti dedica una canzone la mia canzone no no ti prego fermati lascialo perdere per favore perché non vuoi che lo fendi ti piace forse no ma che stai dicendo sei qui per lui cosa non dire altro leon non è come sembra allora mi spieghi dove stava andando è semplice avevo sede e andava a prendere un bicchiere d'acqua sul suo comodino stasera no si è dimenticato che coincidenza german vado a dormire va bene vado vado a dormire perché ho sonno non perché lei mi obbliga ho sonno e mi fido di mia figlia posso andare a dormire tranquillo io sono un padre cool sono un padre del 2000 non sono un troglodita ha capito non sono del secolo scorso all'antica non aveva sonno vado a dormire german vado vado non so noi vado a dormire perché lo voglio vada e beva quel succo lo tieni in mano da due ore lo beva vada è terribile Una misera mela Una misera mela Una misera mela Vuoi sapere come continua la storia di Violetta? Allora non perdere le puntate Da lunedì a venerdì alle 20.10 in replica alle 14 solo a Disney Channel